Questa è la cheesecake più buona e facile che ci sia, non ci credete? Emo vi faccio vedere! Iniziamo dalla base, biscotti nel mixer, li frullo finemente, burro fuso, un pizzico di sale, trasferisco nello stampo, distribuisco sulla base intorno e via in freezer, così posso occuparmi della crema, formaggio fresco spalmabile e aggiungo zucchero, panna, uova, i semi che prelevo dalla vaniglia, l'amido di mais e per rendere ancora più golosa la crema, sbriciolo i biscotti. Visto che era facilissima, solo una spatola e pochi minuti per mescolare, un forno statico a 150 gradi per 70-80 minuti. È il momento di Nutella, la verso sulla superficie della torta e crea un vortice di golosità. Ultimo tocco, biscotti sbriciolati. E come vi avevo promesso, facile, veloce ma soprattutto sapulita assai.